L'ira è terribile, è distruttiva, sempre. Mi incatena, non mi fa fare nulla. È qualcosa che ti sfuota. È diventata come una dipendenza. Sentivo come un fuoco dentro, una grande energia dentro di me. Bisogna sempre scavare all'origine dei problemi per bloccare l'ira. Però devi sbattere la testa a te. Ho ferito un ragazzo al volto e... Mi hanno arrestato.